Michelle Luntziker torna in tv lunedì 20 maggio, in prima serata su canale 5, con il programma YoCant. Michelle Luntziker torna in tv lunedì 20 maggio, in prima serata su canale 5, con il programma YoCant. L'occasione ha dato modo alla conduttrice di raccontarsi a tv sorrisi e canzoni a pochi giorni dal debutto, rivelando alcuni aspetti della sua vita privata che da sempre è legata a doppio filo. L'occasione ha dato modo alla conduttrice di raccontarsi a tv sorrisi nella storia, infatti, resta più bella cosa che il cantautore dedico all'allora moglie, brano che tuttora rievoca ricordi indelebili anche per via dell'esibizione che entrambi hanno reso in tv. Nella storia, la vita è incredibile, fa dei giri pazzeschi, i cerchi si chiudono e questa ne è la colonna sonora, senza. E non è un caso se un brano di Eros sia quello che Michel canta al suo nipotino Cesare, figlio di Aurora che oggi ha poco più di un anno, lo ha addormento cantando per me per sempre di Eros. E non è un caso. La musica sarà protagonista del suo programma proprio come lo è nella sua quotidiani. La musica sarà protagonista del suo programma proprio come lo è nella sua quotidiani. Michel, infatti, ha raccontato quanto le canzoni facciano parte delle giornate sue e di quelle di Sole e Celeste, di 10 e 9 anni, nate dall'amore da Tommaso Trus. Con le mie figlie piccole Sole e Celeste ho un patto, quando le porto a scuola loro possono fare le DJ, però ogni giorno devono cambiare canzoni e studiare un pochino, argomentare le loro. Sole adora Billie Eilish e Olivia Rodrigo, Celeste preferisce Miley Cyrus e Taylor Swift. Auri, invece, sarà anche per l'influenza del papà Eros Ramazzotti. Ascolta ogni stile musicale di ogni periodo storico. È pazzesca. Ha confidato ancora e ancora. Ogni mattina mi sveglio, sistemo, apparecchio per la colazione e accendo. Adoro i pezzi evergreen. Dagli anni Ottanta in poi, Lionel Ricci, Simple Minds. Sveglio le bambini. Meglio essere svegliati con la musica che con le trombe, dico io. O come faceva mia madre, che alle 7 del mattino camminava su e giù per casa con i tacchi a spillo ha raccontato mi. Poi un altro aneddoto del suo passato sull'adolescenza di Aurora. Nel weekend, quando Aurora adolescente tornava tardi la mattina dalla discoteca, io la svegliavo alle 7,30 per poi un altro aneddoto. Era il dazio per non avermi fatto dormire. Pensare che tra poco mi toccherà ricominciare da casa.